Un componente V1 potrebbe definirsi indipendente e facilmente riutilizzabile se non incapsulasse al suo interno anche i metodi stessi grazie ai quali interagire col componente stesso. Un utilizzo tipico di questi metodi, non è difficile intuirlo, è a livello di interpolazione. Abbiamo già più volte utilizzato il metodo speciale DETA, la funzione DETA, che rappresenta proprio la base per l'interpolazione, scrivendo qui nel template un riferimento tra parentesi graffe doppie, sappiamo benissimo quello che succede, verrà utilizzato il valore che in quel momento ha la property nome, cioè Mario e Rossi. Sotto abbiamo aggiunto due sezioni, questo computed, che contiene una property, il cui valore è una funzione, che concatena nome e cognome, ricordiamoci quest'ordine, e restituisce la stringa risultante. Sotto un'altra sezione, methods, che a sua volta contiene un'altra funzione simile anche nel nome, getFullName, di proposito gli facciamo fare la stessa cosa, perché sarà più facile confrontare il contesto d'uso. Anche getFullName con catena, però inverte l'ordine, prima il cognome e poi il nome, e restituisce la stringa risultante. Nell'index, la solida struttura semplice semplice, il div che verrà in toto sostituito da questa marcatura, perché si fa riferimento a un template. Abbiamo già discusso nei primi video questa situazione. Notiamo anche, è in passant, una buona abitudine. Vedete che non abbiamo semplicemente chiamato il componente user, o app e basta, ma app user. L'utilizzo di un prefisso come app trattino, qualcosa che vi identifica, renderà molto meno probabili, conflitti di nomi con altri componenti. Ma torniamo alle funzioni fullName e getFullName. Che differenza c'è tra mettere uno o più funzioni qua nella sezione computed rispetto a methods? Un indizio non facilissimo da cogliere, lo possiamo leggere qui nel modo in cui andiamo ad invocare le due funzioni. Per la getFullName, in methods, è chiaramente la simbologia tipica del richiamo di una funzione. nome e funzione, parentesi tonde. Sotto no. Semplicemente il nome della funzione, come se fosse una property come nome e cognome. Beh, sapete una cosa? E' perché effettivamente, pur nascendo come funzione, per motivi di efficienza, il suo utilizzo, quando è inserita nella sezione computed, si riduce, e la cosa diventa più veloce, perché non c'è l'overready chiamata di funzione, all'accesso di una property. Perché quello che succede è questo. Alla prima necessità, effettivamente, view invoca la funzione, ma poi frappone un meccanismo di cache che fa sì che quando si richiede una seconda, una terza, una quarta, una millesima volta la stessa funzione, in realtà si accede a una property che ha lo stesso nome. In fondo è come se fosse una funzione precalcolata e, grosso se, al suo interno non fa riferimento a elementi mutevoli, altrimenti dovrà essere comunque ricalcolata, al posto della sua esecuzione, view fornirà direttamente il risultato calcolato all'inizio. In effetti, per un nome e cognome si presuppone che una volta inseriti non cambino così frequentemente e magari invece sono usati più volte sulla pagina. Viceversa, inserire nel codice della funzione in computed una dipendenza da una property che può cambiare come valore equivorrebbe a vanificare i benefici del meccanismo della cache, perché la funzione dovrebbe essere rieseguita tutte le volte. Il meccanismo è davvero interessante perché ci consente, in partenza, ad avere tutta la flessibilità di una logica, anche complessa, legata al codice di una funzione e poi la rapidità di recuperare un valore con la velocità tipica dell'accesso a una property. E se forse in questa situazione il guadagno in prestazioni non è poi così marcato, anche se Zio Paperrone ci ha insegnato che con i decini si fanno i fantastiglioni, ve ne presentiamo un'altra dove invece sarà palese e per nulla trascurabile. Ho aggiunto sia nella sezione computed che methods la stessa funzione, questa volta pesantuccia, qua dipendentemente dalla velocità del vostro processore regolate magari il numero di iterazioni, per ciascuna delle quali viene effettuato questo calcolo, la funzione trigonometrica seno, e il valore è aggiunto a questa variabile x che poi diventa il valore restituito dalla funzione. Sotto ho organizzato il template intercalando l'interpolazione di questa funzione con dei riferimenti a date now, in modo che venga assegnato il tempo che intercorre tra l'inizio e la fine dell'eventuale computazione di quella funzione, per cui ci aspettiamo che la prima volta passi un po' di tempo tra la partenza e la fine, ma la seconda volta, richiamando sempre calcolo computed, di avere due valori quantomeno molto simili come inizio e fine, mentre per le due chiamate successive della calcola methods mi aspetto sempre una differenza tra inizio e fine, più o meno dello stesso numero di millisecondi. Trascuriamo per un attimo questo. Ecco il risultato. La prima volta che si fa riferimento a calcolo computed, la funzione deve essere eseguita e ce lo conferma la differenza dei millisecondi, ma la seconda volta che si fa riferimento sempre alla computed, computed seconda volta, il meccanismo di cache non ha veramente invocato l'esecuzione della stessa funzione, ma ha semplicemente recuperato il valore dalla property. 66103, 66103, come sospettavo, neanche un millisecondo. E vedete che il valore è sempre lo stesso. Sotto per la funzione da methods, che invece ruba tempo sia qui, che anche per la seconda invocazione, riprende ancora dallo stesso valore e ruba cicli macchina per il suo calcolo un'altra volta. Tutto come ci si aspettava. Adesso immaginate un contesto di una app di grafica in cui spesso, o di analisi statistica, quello che volete, dove per diversi elementi della pagina, per tantissimi, potenzialmente tantissimi elementi di quella stessa pagina, si fa riferimento agli stessi calcoli, è evidente che il guadagno che ne traiamo può essere ben più consistente del primo esempio che abbiamo visto. Ora proviamo ad introdurre nella funzione computed una dipendenza da una property, che viene modificata da questo bottone. Torno al codice di calcolo computed, invece di return x, faccio restituire la property dipendenza. E in questo senso ho reso dipendente la funzione da questa property. Quando farò clic sul bottone, andiamola a vedere, non abbiamo ancora parlato in dettaglio dei metodi, però si capisce molto bene. Al clic verrà incrementato di uno il valore della property dipendenza. View innescherà un nuovo ciclo di rendering per il quale capirà che sarà necessario ricalcolare calcolo computed la prima volta, poi di nuovo in cache. Salvo, andiamo a vedere che cosa succede di qui. Sta facendo i sui calcoli. perfetto. Adesso clicco e vedrete che la funzione computed è stata comunque ricalcolata. Se tolgo la dipendenza e incremento poi la property, memorizzate i valori, vedete che View non considera necessario attivare il nuovo ciclo di rendering e i valori rimangono immutati. Ci sono però dei limiti. Ad esempio una calcolo computed che basasse il valore restituito per il rendering su un qualcosa come date now non funzionerà perché questo riferimento non viene considerato una dipendenza da una property gestita da View, per cui non si innescherebbe un nuovo rendering e la parte renderizzata non potrebbe cambiare in questa situazione. Come abbiamo accennato prima, View trasforma la computed in una property con un getter di base che si limita a fare la restituzione del valore. Ma abbiamo anche la possibilità di specificare più in dettaglio le operazioni da svolgere nel getter get e anche in caso di modifica del valore, il set. Torniamo allora alla prima funzione computed con cui abbiamo lavorato, la full name, ed esplicitiamo getter e setter. Così full name è definita da questo getter e questo setter. Già avete ragione, ma chi è che va a innescare il richiamo del setter? Non certo un titolo H4 in cui abbiamo inserito l'interpolazione di full name. Aggiungeremo nello schema un campo di input col binding a questa property. Così modificando il contenuto alla casella di testo dovrà cambiare anche questa property e innescare un nuovo ciclo di rendering. Questo è il campo di input binding dell'attributo value con la property full name. Quando il campo dovrà essere renderizzato si farà riferimento al getter. Quando qualcuno andrà a scrivere dentro questa casella di testo la bidirezionalità farà sì che sia il setter che riceverà come parametro val il contenuto della casella di testo. Adesso però che il focus è ritornato sul blocco originale commento questa parte perché altrimenti il rendering associato al calcolo introdurrebbe un ritardo poi magari ve lo mostriamo di circa un paio di secondi ad ogni pressione di tasto nella casella di input che farebbe scattare il rendering tutte le volte anche di questa parte con risultati direi inaccettabili. Eccoci guardate cosa succede cancellando qualche carattere. Il binding imposto qua con vmodel value full name, forza l'aggiornamento della property, il conseguente ricalcolo delle dipendenze e l'innesco di un ciclo di rendering. Tolgo la i che viene tolta dappertutto. La rossi. Ma torniamo un attimo al setter perché forse non tutti hanno colto a colpo d'occhio l'elaborazione che svolge. Depositiamo in quello che diventa un array, l'array testo, il risultato dello split del contenuto della casella di testo. Il setter viene invocato ricevendo come parametro questo val che è questo. Splittiamo usando come carattere separatore lo spazio. Vuol dire che Mario, lo split avviene dopo di lui, viene memorizzato nel primo elemento di testo, testo 0, infatti poi questo valore lo assegniamo alla property nome giustamente. La seconda stringa dopo lo spazio viene memorizzata in testo di 1, cioè in testo alla posizione numero di elementi dell'array 2-1, 1. Naturalmente ci rendiamo conto che la funzione che abbiamo scritto è tutt'altro che perfetta, ad esempio aggiungendo uno spazio per cominciare a scrivere un nominativo che ha due nomi e un cognome, la cosa non funziona perché appena apriamo lo spazio parte ancora lo split ma andrebbe a prendere come cognome una terza parola che è vuota. Naturalmente questo non poteva urtare la sensibilità di Giovanni De Rosa che è proprio il caso che farebbe fallire questa funzione, quindi vi proponiamo una versione che svolgerà il suo lavoro anche se non necessariamente ottimale. Abbiamo allora commentato questa parte sostituita da questa. In pratica viene considerato cognome tutto quello che segue il nome che sia diviso in due, tre, quattro mille parti. Proviamo. Quando aggiungo lo spazio qui non succede nulla. Cancello. Giustizia fatta. Volevi vedere quello che accade se andiamo a riattivare la parte con il calcolo? Ogni volta che premo un tasto, faccio una modifica qua nella casella di testo, innesco il rendering e quindi il richiamo anche di calcolo computed una prima volta ma poi sempre invece di calcolo methods per altre due volte. Risultato. Premo spazio e poi tutto si congela per un pochetto. A. Fermo, fermo, fermo perché vediamo che solo dopo un po' le scritte si aggiorano. Vabbè, è giusto. Come curiosità. E comunque come conferma del modo in cui si svolgono i meccanismi che abbiamo descritto. Va bene, commento anche questa seconda versione perché dopo funzioni tradizionali, altre anonime, penso che diversi tra voi avranno pensato, ma non è che ci sia anche la possibilità di sfruttare le lambda, magari. La risposta è sì, ma c'è qualche pericolo da evitare. Intanto ecco la nostra lambda, quella col regalo però. Questo infatti è il risultato. Come ogni programmatore JavaScript sa, il DIS è un po' un tormentone perché soffre di schizofrenia acuta. Insomma, il suo significato cambia a seconda del contesto. Nel contesto di una lambda non fa riferimento lambda usata come metodo. È invocata quindi sull'istanza di un oggetto, di view in questo caso, al contenitore delle property, ma di solito all'oggetto window. Per cui, siccome nel contesto di window non c'è né nome né cognome, undefined, undefined. Ma ecco come è possibile aggirare il problema. Salvo. Questa volta ci siamo. Stiamo arrivando al finale. Oltre alle sezioni computed e methods, ne esiste un'altra, watch. Come penso vi suggerisco il nome, permette di mettere sotto osservazione una property. Quando questa cambia, scatta un allarme e allora viene invocata la funzione che vedete indicata qui, function val console log val. Il parametro naturalmente è il nuovo valore che noi potremo stampare, per semplicità in questo caso, sulla console. Per forzare la modifica di dipendenza, ho riesumato, no, sotto, il bottone click che lo incrementa di uno. Andiamo a vedere quello che succede. Incremento dipendenza. La funzione di watch verrà risvegliata ad ogni click. Un caso d'uso tipico per un watch potrebbe essere quello in cui inviamo una richiesta sincrona a un database e vogliamo agire quando una certa property, ricevendo il risultato database, sarà modificata. Siamo davvero in chiusura, c'è tempo per un ultimissimo dettaglio. Commento questo e riabilito quest'altro. I dati di per sé, mantenuti nell'istanza, sono direttamente accessibili anche in questo modo. Dollar data e dentro punto nome. Stessa cosa potrei fare anche con cognome. Poi un meccanismo cosiddetto di proxy che ci permette il più snello riferimento this.nome. C'è però una cosa a cui dobbiamo stare attenti. Quando volessimo chiamare una property con un identificatore che inizia proprio per dollaro, dollaro nome, dollaro cognome, o anche con underline. Perché in questo caso, per evitare conflitti, non verrà utilizzato il proxy. Non potrà essere semplicemente this dollaro nome. Il proxy in questo caso non funziona. Consequentemente l'errore in accesso di questa variabile che dal suo punto di vista di view non esiste. Lo dovremmo fare con la sintassi completa. this dollaro data punto dollaro nome. Mi raccomando, cambiate dappertutto. E non dimentichiamoci, ammetto che mi sono fatto fregare, anche qua. Ok, adesso tutto è ritornato a funzionare. Come dicevamo, stessa cura nel caso volessimo chiamare la property con un identificatore che inizia con underline. E direi che anche per oggi abbiamo adesso veramente finito. A risentirci.